Ciao da Treviso, ciao da Rieste, Grescia, ciao sono Gerry, ciao mi chiamo Gioia, io sono Gianluca, sono il papà di Emilia, ciao sono Marne, ciao sono Silvia e io invece mi chiamo Giorgia, ciao, siamo la famiglia che sta qui, la settimana è andata splendidamente, questa notte abbiamo cercato in tutti i modi di trovare un appiglio legale per rimanere qua, non ce l'abbiamo fatta, c'è stata un'ottima animazione, sono stata benissima, ho mangiato molto bene e penso che torneremo volentieri, è stata bene questa settimana, mi è piaciuto molto, peccato che questa settimana sia finita così presto, ce la siamo passata benissimo, volevamo rimanere un'altra settimana ma non possiamo purtroppo, ci siamo divertiti tantissimo questa settimana e vorrei che la ripetiamo ancora a rivelerci ciao Sette Mari ciao 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 a tutti ciao grazie ciao ciao un saluto a tutti un saluto a tutti, ciao alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.